E' iniziata ieri alle 18 in piazza Varchi, la marcia con cui il centrodestra Montevarchino tenterà di dare la scalata al municipio del capoluogo valdarnese nelle elezioni amministrative di metà maggio. Il candidato a sindaco Mauro Bindi ieri infatti ha presentato tutti i candidati a Consiglio Comunale. Come sapete ci sono tanti candidati e quindi è molto vivace. Noi siamo già partiti, abbiamo fatto la nostra presentazione ufficiale già un paio di settimane fa e qui ora stasera in piazza Varchi facciamo un cosiddetto aperitivo con la presentazione di tutti i candidati delle due liste che mi appoggiano e che colgo l'occasione per ricordare sono una lista indipendente nuovo PSI e l'altra PDL, la destra e l'UDC. Parliamo un po' in generale di alcuni dei candidati che vi appoggiano, tanta gente proveniente dalla società civile, tanti volti nuovi, altre persone con esperienza. Facciamo un commento anche su di loro. Sì, alcuni sono volti storici, per esempio Carlo Firli, Paolo Bernacchioni per la lista indipendente e lo stesso per il PDL, anche dall'altro lato ci sono candidati che hanno una certa esperienza politica e poi molti giovani e questo è importante. Poi ci sono anche delle donne come ci è stato naturalmente ricordato anche dalle signore delle pari opportunità. e vorremmo anche averne avute di più, purtroppo però non sempre si concilia con il loro ancora atavico ruolo e quindi spesso rinunciano, non è colpa nostra. Folta la presenza delle persone e del pubblico che testimonia quanto questa campagna elettorale sia partecipata.